Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questo spazio di approfondimento, anche questa sera spazio di approfondimento politico, ospitiamo una delle compagini nella prossima tornata elettorale, alle amministrative, la lista in comune, salutiamo subito gli ospiti in studio questa sera, Samuele Mascarin, assessore uscente e capolista, buonasera, benvenuto, e Simone Uguccioni, portavoce della lista in comune. Bene, allora, ambedue li abbiamo conosciuti in più occasioni alla conferenza stampa di presentazione proprio di questo nuovo soggetto politico cittadino, anche recentemente alla presentazione della lista. Simone tu eri presente a tutte e due, sei il portavoce, allora per chi magari non ha seguito questi due momenti di vita della vostra formazione, spiegaci un po' cosa c'è alla base di questo progetto, come mai avete avuto così l'idea di formare questa compagine politica cittadina. Sì, ovviamente in comune appunto è un progetto nuovo, è un progetto nuovo a pochi mesi e nasce dall'esigenza, diciamo, di rompere i vecchi schemi della politica e ampliare lo spazio di partecipazione a tutte quelle cittadine, a tutti quei cittadini, a tutte le energie sociali, civiche, economiche della città che fino a quel momento non avevano uno spazio a sinistra dove poter partecipare appunto in maniera attiva. Per farlo, appunto, per rinnovare le metodi, le tematiche e la partecipazione, nei primi mesi, dicembre, gennaio, abbiamo fatto tantissimi incontri, cene, forum tematici, dove incontrandoci con le persone, non abbiamo solo dettato il nostro programma, ma proprio l'ascolto e la richiesta nostra verso di loro di partecipazione a questo progetto. E si può dire che ha funzionato perché nel creare la lista, la nostra lista, i nostri candidati, noi abbiamo un 60% all'interno della lista di donne e uomini che non avevano fino a quel giorno, fino ad oggi, fatto politica attiva all'interno di una lista. Sono persone che vengono dal mondo delle associazioni, vengono dal mondo dello sport, del lavoro, hanno sempre fatto politica, come posso averla fatta anche io nel mondo delle associazioni, ma mai attivamente, mai avevano trovato uno spazio dove farlo e metterci la faccia. E noi siamo contenti di questo perché vuol dire che il progetto è stato capito e c'è stato entusiasmo nel partecipare. Fatto questo, ovviamente, siamo passati a una fase in cui siamo andati a parlare e a trovare dei punti di incontro tematici con Massimo Seri, con il candidato sindaco Massimo Seri, su alcune tematiche che per noi sono centrali, come il servizio alla persona, l'ambiente, l'ecologia, le biblioteche, vari temi su cui noi sentiamo di poter dire parole importanti. Tematiche importanti che fanno parte della vita comune, del lagone, insomma, cittadino. Mascherin, l'ambiente è stato sicuramente un asse portante di questi anni di vita pubblica, sociale e politica. Sì, assolutamente. Quando ho iniziato l'esperienza con questa amministrazione, che sta concludendo il suo mandato dopo cinque anni, l'ambiente faceva investimenti per qualche decina di migliaia di euro ogni anno. In questi cinque anni abbiamo speso quasi 5 milioni di euro per la tutela, la salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini. A me piace ricordare in particolare alcuni interventi che in questi anni sono stati fatti e che sono particolarmente significativi. Penso ad esempio alla bonifica dall'amianto di decine e decine di immobili del nostro territorio, del patrimonio pubblico, un intervento da 1 milione e 400 mila euro che ha portato allo smaltimento di oltre 175 tonnellate di amianto nella nostra città. Siamo tra le pochissime città in Italia ad aver raggiunto questo risultato. Ma tanti altri sono stati i risultati raggiunti. Penso alla raccolta differenziata al 75%, penso alla videosorveglianza finalmente attivata nelle 436 isole ecologiche della nostra città che in tre anni ha portato a quasi mille sanzioni complessivamente nel nostro territorio che è un bel segnale anche per i cittadini, tanti cittadini che fanno il loro dovere che i furbetti vengono colpiti e vengono sanzionati. Ma poi ci sono stati anche altri interventi che magari sono stati poco appariscenti ma che sono molto significativi. Ne cito uno in particolare, quello del risanamento delle acque di balneazione. E mi riferisco in questo caso all'investimento per oltre 2 milioni di euro che è stato fatto per il prolungamento degli scolmatori alla Sassonia, ma soprattutto gli interventi che stanno partendo per il risanamento ambientale del torrente Arzilla, che riguarda ovviamente non solo la zona dell'Arzilla ma anche quella turistica del Lido. In questo senso credo che sia importante ricordare che abbiamo ottenuto 492 mila euro di finanziamento europeo in partnership con altri enti locali della Croazia proprio per il risanamento ambientale di questo torrente. Ecco questo è uno scenario di impegno che credo abbia caratterizzato positivamente in questi anni l'amministrazione di centro-sinistra e non è un caso che la lista in comune e Massimo Seri come candidato sindaco in questo frangente, in questo passaggio elettorale investano moltissimo dal punto di vista programmatico sul rilancio di altri interventi assolutamente importanti per la nostra città dal punto di vista ambientale e mi riferisco in particolare al tema delle polveri sottili, un problema che è presente nella nostra città, che va aggredito con ancora più coraggio e determinazione, ma per farlo nei prossimi cinque anni ci servono persone competenti e noi credo che abbiamo dimostrato sul tema dell'ambiente non solo di essere competenti ma anche di essere in grado di trovare le risorse finanziarie per fare quelle azioni che fino ad oggi per decenni non erano mai state fatte. Certo, ricordiamo anche che l'intervento che citava prima Mascherin sul Torrente Arzilla, Fano è un progetto pilota, è una città pilota a livello anche universitario per questo intervento, quindi sicuramente qualificante molto da questo punto di vista per la città di Fano e per il tessuto sociale. E proprio sulla società e anche sulla cultura vorrei stimolarla perché sono due cose che vanno a braccetto, insomma si danno la mano in maniera molto stretta. Sì, un tema importante di questi anni ma soprattutto dei prossimi io credo è quello di allargare gli spazi di partecipazione, di socialità che spesso coincidono con quelli della cultura in senso ampio. In questi anni sono stati riaperti degli spazi importanti come ad esempio la Rocca Malatestiana, il Bastione San Gallo, ma anche tante altre realtà dell'associazionismo in questi anni hanno trovato spazi e occasioni per un impegno sociale, culturale, civico molto importante. E dentro questa cornice un ruolo importante l'hanno svolto e lo svolgeranno sempre più nei prossimi anni le strutture bibliotecarie. Penso in particolare alla Mediateca Montanari che in questi anni è stata veramente la seconda piazza della nostra città, oltre 600.000 presenze in questi cinque anni, oltre 1.800 iniziative, tanti riconoscimenti a livello nazionale, a livello europeo per le attività e che sono riconoscimenti che hanno portato anche in questo caso risorse dallo Stato e dall'Europa per progetti e attività che riguardano il sistema bibliotecario della nostra città. E a me piace sottolineare questo aspetto in particolare della Mediateca Montanari e in generale del sistema bibliotecario della nostra città. Sono in qualche modo un annuncio dell'affanno che nei prossimi anni potrebbe effettivamente essere. Cioè una città aperta, inclusiva, curiosa, europea e le migliaia di persone che ogni mese attraversano gli spazi della Mediateca credo che in questo modo respirino già quello che potrebbe essere l'affanno del domani, l'affanno che noi ovviamente ci candidiamo non solo a interpretare ma a costruire in maniera coerente con quello che abbiamo fatto in questi cinque anni. La Mediateca Montanari è uno spazio interattivo, ci sono tanti contenitori, situazioni, è un posto anche divulgativo, non solo consultativo, insomma quindi è un bel modo per aprire uno spazio culturale alla città e ai giovani soprattutto perché la fascia media è molto bassa della Mediateca che alle volte uno dice ma libri, strumenti, si pensa a qualcosa di over e invece in realtà non è così, basta frequentarla. No, assolutamente, è uno spazio che rappresenta bene l'idea di società che noi abbiamo, uno spazio interclassista, si sarebbe detto una volta, è uno spazio intergenerazionale, è uno spazio dove tante persone, tanti cittadini arrivano dalle periferie per vivere degli spazi di socialità che siano appunto orizzontali e nel quale tanti cittadini entrano anche se non devono leggere o prendere in mano un libro ma vengono per un'iniziativa, per passare del tempo insieme. Insomma è veramente, come dicevo, la seconda piazza della città. La cosa importante sarebbe nei prossimi anni costruire tante seconde piazze della nostra Fano e in questo senso la Mediateca può rappresentare veramente l'esempio sul cui andare a modificare in maniera importante anche le periferie della nostra città che non sono solo periferie dal punto di vista urbanistica ma lo sono a volte anche dal punto di vista sociale e culturale e credo che questo sia l'investimento assolutamente primario che nei prossimi anni noi dovremo fare anche per rimodellare l'identità della nostra città. E non a caso importanti manifestazioni della città passano quasi tutte da Mediateca Montanari o per un motivo o per l'altro. Parlando di studenti viene subito da pensare a quello che è lo scenario soprattutto per le scuole, i servizi alle scuole e quindi a cascata anche per l'infanzia. Qui che cosa volete proporre nella prossima tornata elettorale? Beh anche in questo caso alcuni cambiamenti importanti in questi anni li abbiamo fatti. In primo luogo quello di riportare il mondo della scuola, dell'infanzia e dell'educazione al centro dell'agenda politica di questa città dopo che per tanti anni ne era stato al margine. Basti ricordare che in questi anni abbiamo assunto 15 insegnanti a tempo indeterminato per i nidi e le scuole dell'infanzia della nostra città, abbiamo speso più di 8 milioni per l'edilizia scolastica, per rimodernare o costruire nuove strutture scolastiche e abbiamo fatto un investimento importante sulla formazione delle oltre 80 educatrici insegnanti delle scuole comunali e abbiamo fatto anche alcuni interventi che vanno incontro alle esigenze delle famiglie, soprattutto più giovani, quelli che lavorano, quelli che si confrontano appunto con una società in cambiamento dove cambiano anche le caratteristiche delle famiglie, i tempi di lavoro, i tempi di vita. A me piace ricordare che in questi anni abbiamo modificato le fasci Z che ha consentito una riduzione per il 70% dei nostri utenti di nido di quelle che erano le tariffe e abbiamo fatto una scelta coraggiosa proprio negli ultimi mesi che è stata quella di organizzare e di proporre per il prossimo anno scolastico il prolungamento orario dei nidi e delle scuole dell'infanzia gratuito per oltre mille famiglie e credo che questa sia una risposta forte rispetto ai bisogni e anche ai disagi che in questi anni abbiamo registrato soprattutto da parte delle famiglie giovani e lavoratrici ed è un modo anche per riaffermare il valore pubblico che devono avere alcuni servizi che proprio perché sono pubblici non possono essere come dire dei servizi vissuti come un lusso ma al contrario come un diritto e proprio per questo essere pienamente fruibili. Ecco io penso che nei prossimi anni quello che sarà necessario fare proprio anche alla luce di un'idea di città che noi abbiamo in una città solidale, aperta, accogliente è quella di continuare ad investire sui servizi pubblici per l'infanzia sul mondo dell'educazione e soprattutto ampliare questi servizi perché vediamo ogni volta che noi facciamo una proposta progettuale che le richieste sono tantissime. Abbiamo lo scorso giovedì aperto le iscrizioni al nuovo servizio di prolungamento e abbiamo delle risposte molto importanti, abbiamo aperto le iscrizioni ai servizi di nido, a quelli per i centri estivi e le risposte sono enormi. Bene, vuol dire che il bisogno c'è e la risposta al momento e all'altezza di quell'aspettativa, però dobbiamo fare di più e fare di più in questo momento vuol dire anche investire risorse economiche sempre crescenti sul mondo dell'infanzia. Bene, Mascherin, ritorno con lei fra un attimo su un altro tema molto caro che è quello del parco pubblico, coinvolgo brevemente di nuovo Uguccioni per chiedergli stai vivendo in prima persona questa nuova esperienza come te tanti della vostra lista, siete una lista molto giovane, molto attiva, come sono questi primi momenti di campagna elettorale? Beh, sono molto intensi, però li stiamo vivendo con molta partecipazione, molta passione, veramente molto impegno. La lista A va da 20 anni ai 70, dietro poi c'è un mondo di attiviste e attivisti che danno una mano ogni giorno, ogni giorno veramente per portare avanti il progetto, perché è un progetto che ovviamente ora ha un appuntamento importante, che comunque ci darà un'idea di quanto fatto fino ad oggi, ma che da domani, da dopo il 26, da dopo le elezioni, lavorerà e si impegnerà per portare avanti tutte le idee che ci sono dentro in comune e che non possono essere raccontate solo in pochi mesi, ecco. Certo, quindi insomma un'esperienza che continuerà, che avremo modo di conoscere più approfonditamente. Mascherin, chiudiamo con un altro argomento della nazione che è sempre stata portata in visus da voi e da lei soprattutto, il parco pubblico che ha visto nei mesi scorsi il suo start e fra poco vedrà la chiusura di un primo blocco con buona gioia e buona pace di tutti. Sì, quella del parco è veramente, io credo, una bella pagina di politica, perché è uno di quei temi come l'amianto, come il risanamento ambientale dell'Arzilla, di cui si è parlato per decenni ma alla fine non si è fatto mai nulla. Noi cinque anni fa ci siamo candidati dicendo che avremo fatto il parco. In questi cinque anni abbiamo acquisito titolo gratuito 30 ettari dell'ex campo di aviazione da parte del demanio statale. Siamo riusciti a fare la variante urbanistica trasformando quell'area in parco e mettendola al riparo da qualunque ipotesi di speculazione edilizia. Siamo riusciti a fare il progetto, un progetto partecipato e siamo riusciti a mettere in campo gli interventi, i cantieri e soprattutto trovare le risorse, mezzo milione di euro, per far partire il primo lotto. E a me piace dire questa sera ai telespettatori che questo primo passaggio è un passaggio che si sta già per concludere perché la prossima settimana si concluderanno i lavori del cantiere e finalmente quest'anno per il 2 giugno il parco potrà essere festeggiato in quanto tale perché avremo un parco, un parco intitolato la figura che ricordo con affetto di Lucio Polverari e a me piace sottolineare questo. Credo che il parco dal punto di vista simbolico sia forse uno degli interventi più importanti che l'amministrazione di centrosinistra guidata da Massimo Seri in questi anni ha portato a termine e credo che sia anche per la sinistra fanese il risultato più importante per un semplice motivo perché è la dimostrazione che quello che noi promettiamo lo facciamo. Gli altri parlano, noi in questi anni abbiamo lavorato, abbiamo prodotto dei fatti e credo che anche le proposte che facciamo per i prossimi anni abbiano una forza, una credibilità maggiore perché noi abbiamo dimostrato che siamo quelli che fanno le cose che promettono e oggi in politica questa è una cosa abbastanza rara. Bene, grazie a Samuele Mascherin, capolista di In Comune, grazie anche a Simone Uguccioni, portavoce della lista e insomma grazie a voi per essere stati in nostra compagnia e come come sempre dico questo è uno spazio dedicato alla tornata elettorale e abbiamo modo qui di conoscere più da vicino sia i protagonisti che le loro idee. Grazie e buon proseguimento di serata con le nostre trasmissioni. Arrivederci.